Signore e signori, bentornati nella serie dove la chat mi fa impazzire. Dopo il successo dei video di GTA V, ho deciso di riproporre la sfida in un altro gioco altrettanto famoso, chiamato Skyrim. Forse l'avete sentito nominare, si dice che ci sia qualche bug all'interno del gioco, ora non ne sono sicuro, eh, non è che è capitato a me. Puh, che cazzo! L'obiettivo della sfida di oggi è quello di battere il primo drago che trovate nella missione principale, dopo aver parlato con lo Jarl di Whiterun. E quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like se volete questo format su altri videogiochi tipo Minecraft. E dopo esservi allacciati le cinture di sicurezza, possiamo iniziare. Oh, cazzo. Apriti, 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 via, 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 via! Corriamo, corriamo, corriamo! C'è un cavallo grande. La testa, cazzo, troppi inventori. No, troppi... Aia! Cosa mi sta sfulminando? Chi è? Chi è questo? Spostati! A me... No! Io ho salvato qua, vero? Ok. No, ma ho salvato con tutto l'inventario per terra, non ci credo. Ok. Siamo fuori, ragazzi. Mia sorella... Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Ok. Salutami la sorella. Siamo fuori, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Oh, cazzo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Corri, cavallo, corri, corri! Dietro, dietro! Ah, potrebbe essere leggermente difficile così. Oh! Oh! Cosa... Sto volando! Ok, ci siamo... Sono vivo io? Sono vivo! Allora, ringraziamo il cavallo che si è sacrificato per noi. Buongiorno, signori di Riverwood. Ciao, c'è una missione? C'è una missione? Eh... La missione? Ho come l'impressione che la missione non partirà. Fallita? No, come fallita? E come faccio ad andare avanti? Quanto cazzo dura? Tonk! Tonk! Pluff! Va bene. Ma perché sto cavallo tipo... Vola? Ora mi sa che non vola più, ragazzi. Io non sto facendo niente, vi faccio notare. Si è rotto il gioco, non capisco. Basta andare su, scendi! Non qui, non sulla montagna. Siamo a Riverwood. Scendo e salvo. Ora è tutto come dovrebbe essere. Prima volta a Riverwood, un drago. Vedi, era un drago. Ci credi adesso? Ma porca puttana. Aiuto! Dai, non voglio morire. La gamboggia fa schifo il nome del drago. Dov'è il cavallo? Dai, ma se... No. Forse mettere questa roba a un euro non è stata la migliore delle idee, possiamo dirlo. A che punto sono atterrato. Ah, ma sono... No! No, no, no! Oh, il ceppo di legno mi stava aiutando. Puoi non avercela con me, eh? Vai, attaccatelo! Combattiamolo, compagni! Combattiamolo! No! Tu coglioni sta cosa, ragazzi. Qua. Qua. Quanti sono? Quanti sono? Aiuto! Ok. Ma un attimo che sono alle pre... Ci ha pensato lui. È l'ora dell'1v1! Sono fortissimo! Sono fortissimo! L'ho ucciso! Allora, potevo mettere effettivamente a più di 100 bits il drago, ora che ci penso. Combattete! Combattete! Zaa! 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 Beccati questo! Le guardie sono tutte impegnate. Bra! Ok. Dai fuoco a loro e non a me. Giusto. No, c'è il drago, non mi fa parlare con la guardia. No! Ma ci sono due draghi. Dove avevo salvato? Era grande come la montagna e nero come la notte. Non so se sia un bene o un male. La gamboggia. Activates dragon for 100 bits. Grazie la gamboggia. Esco a parlare con la tipa prima che si accorga del drago. Sì, ah, c'è un drago che mi sta dando fuoco. Possiamo sbrigarci. Sì, esatto. Avvertilo. Sì, poi... Oh, cura, 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 cura. Allora, buona notizia è che siamo vivi. Salviamo qua. Skeltur activate, source for 10. Oh, grazie. Skeltur, ti cavalco. Skeltur activate, source for 10. Skeltur activate. Me ne basta uno. Skeltur activate, source for 10. Skeltur activate, source for 10. Skeltur activate, source for 10. No, mi hai droppato l'inventa... Non ho più niente, ragazzi. Ah, ma che cazzo. Al mio inventario è andato disperso. Però siamo vivi ancora. Allora, c'è un problema. Ultra magic kick in combo con troppe inventori è un po' forte, perché non posso raccogliere più niente. Sì, 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 perfetto. Di draghi, come piace a noi. Il dubbio vado avanti. Guardate come sono nudo, questa lucertola pelata. Vi direte, Fieric, ma le lucertoli non hanno i capelli. Ovvio che è pelata. Questo dite voi. Grazie. Oh, quanti cazzo i cavalli ci sono? E adesso quale cazzo è la guardia che ha la chiave di Whiterun? È una di queste, la guardia. Oh, what the fuck? Abbiamo shottato. Come è morto. Perché non posso borseggiare? Perché stanno combattendo. Oh, sveglia! Ok, mi arrendo, portami in prigione. Funziona! Funziona, ragazzi. Sono andato in prigione. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Sì, scontiamo la pena. Via, 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 via. Sono dentro? Sono dentro! Allora, mi raccomando, non facciamo casini con lo Jarl, ok? Facciamo così con lo Jarl perché siamo persone civili. Vero? Sisteria NPCS for 100 bits. Ho capito. Ma non ho fatto niente! Succederà qualcosa secondo voi. Speralizzo NPCS for 50 bits. Ecco, è successo questo. Allora, dov'è lo Jarl? Ah, è qua. Permesso? Salve, signor Jarl. Signor Jarl. Ma, no. Mi arrendo, mi arrendono. Sono disarmato. Governo militare. Allora, secondo tentativo. Cosa significa questa interruzione? Eh, c'è un drago. Hai visto con i tuoi nobili? Ho visto il drago, sì. Più di uno. Troviamo Farengarde, il mio mago di forte. Canti cavalli ci sono. Dov'è Farengarde? È qua. Chi state picchiando? Ma perché stanno uccidendo Farengarde? Farengarde, dobbiamo andare avanti con la missione. Ma le guardie si picchiano tra loro. Ma che è successo? Quanti polvini contro Skyrim? Lo so che ho commesso un crimine verso Skyrim. Lo so quanti crimine ho commesso. Riproviamoci, ragazzi. Questa è la volta buona. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Eh, sì. Se ho un po' di cavalli sono utilissimo. Qualunque cosa possa essere utile per affrontare questo drago, o draghi, ci serve in fretta. Va bene, mi sbrigo subito. Grazie della fiducia. Allora, chat, devo cercare di rubare delle armi. C'è della bella... Ascolta, facciamo così. Ci andiamo a cavallo. Io me ne vado. Vattene pure. A parte i soldi. Ecco qua. Questo volevo vedere. Signore e signori, abbiamo un'arma! Un applauso. Questo è un bel passo avanti. Vediamo se riusciamo a prendere qualcos'altro. Nell'oggi dello Jarl, penso ci sarà qualcos'altro. Allora, cosa abbiamo? Qua ci sono delle armature. Dicono che Elgen sia stata attaccata da un drago. Ah sì, dicono questo. Pensa a te. Quello è uno scudo. Molto bene. Aspetta, mi sta dando dei punti. Mi state dando un sacco di punti! Grazie, Giuda! Vai, così ci potenziamo tantissimo. Beh, tantissimo, più o meno. È ora di andare al tumulo delle cascate tristi. Una cosa è certa, ovunque andiamo ci sarà sempre un cavallo della gamboggia fa schifo. Oltre al drago anche. È tempo di salire al tumulo delle cascate tristi! Allora, si va di qua. Buongiorno, gentil signore. Non c'è bisogno, grazie. Mi ha già insegnato Shrek. Ma... No, no, no! Inventori for 200 bits. Sacchete! L'uomo invisibile! Un po' di cavalli fan sempre bene. Penso che andrò senza, eh, però... Ma non davanti al bandito, poi. Dremora, uccidilo! Bravo! Vai, Dremora! Menalo! Vabbè, ma col Dremora è tutto così facile. Vabbè. GG per il Dremora, ragazzi. GG, non sta bene. Non è smite con... No! Cosa sta succedendo? Cosa succede? Qualcuno faccia qualcosa! Mamma mia, non si capisce niente. Cazzo! Ragazzi, c'è un problema. Abbiamo... Cioè, abbiamo. Avete rotto il gioco? Ho come l'impressione che dobbiamo caricare il salvataggio. Bene, ragazzi. Stiamo andando tutto a secondi piani. Il cavallo ci aiuta. Permesso. Proprio così che... No! No! Il cavallo! No! Non di nuovo! Non di nuovo! Ma no, non uso il no clip. Cioè, allora, sarebbe troppo facile. Siamo qua per dar prova delle nostre incredibili abilità. Perfetto. Sfruttiamo finché abbiamo la velocità aumentata. Corri, 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 corri! Che poi, decrease size, non è neanche male. Perché comunque ti dà un sacco di velocità. Ok, ok, ok. Ok, ok. Siamo bravissimi. Mamma mia! Le skill incredibili! Il più forte del mondo! Corri, corri, prima che finisca la velocità. Corri! E la direzione giusta? Sì, ok. Ok, stanno andando bene. Troppi anni che non faccio a sta parte, scusate. No! No, 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 no! No! Sono lento! Aia! Ok. Siamo salvi! No, 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 no! Grazie, gamboggia! Aia, aia, aia! Ok, 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 passo, presto, presto, presto! Permesso! No, no, no! Ma perché? Allora, c'è un problema, ragazzi. Io non posso passare quella parte, perché dovrei essere adulto. Cioè, dovrei essere grande per poterla passare, capito? È questo il problema, non ci passo in tempo. La mia speranza è che, essendo piccolo, mi colpiscono queste cose. In teoria è così, giusto? In pratica no. Grazie, questi mi aiutano. C'è i bodyguard. Allora, uccello, farfalla, orso. Ok. Allora, chat, noi dobbiamo battere il tizio adesso. Il problema è che, essendo piccolo, non gli faccio danno e sono lento. Oh, ci vuole tanto? Allora, la cosa buona è che decrease size mi rida il boost di velocità. La gamboggia, passi, for, activate, decrease, seize. La gamboggia, passi, for, activate, decrease, seize, seize, for... Direi che stia diventando veloce, ragazzi. I GOLI, activate, ultra magic, kick, four, cento, pizza. Oh, mi mancava questo. Riusciamo a tornare a white run? Ok, posso teletrasportarmi, però sarebbe stato divertente andarci veloce. Giuda 93, activate, decrease, giuda 93, activate, decrease, seize, seize, for, cinquanta. Ok, stiamo piottando. Oddio, questa è una buona velocità, così dovremmo arrivarci abbastanza in fretta. I GOLI, activate, paralizzi, domani. Game for 300 bits. Perfetto. Boh, che cazzo! Boh, che cazzo! Oddio! Eh, se cado nell'acqua... Mi sa che useremo lo spostamento veloce. Ho come questa impressione. Oh, siamo grandi! Siamo tornati alla nostra dimensione! I GOLI, activate, decrease, seize, for, cinquanta. Meno male, ora sto proprio meglio. Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. Sembra che tu sia più abile dei soliti primi scendici. Pop, cosa vedi lei? Voglio che tu vada con Irle e te l'aiuti a combattere contro questo drago. Ci penso io! Buona fortuna. Spero arriverai là in te. Oh, l'avete sbaggata, grazie. Ok. Oh, what the... Oh! È morto! Facciamo la gara che arriva prima. Ci vediamo là! Che vinca il migliore! Ecco, sono arrivato. Ho vinto. Uccidi il drago. Allora, e quale dobbiamo uccidere? Ah, è lui! No, vabbè. Allora, ho trovato... Che fatica, ragazzi, sarà. Fuoco! Ah! Il suo è più forte! Ma chi sono questi? Allora, chat, dobbiamo togliere il rimpicciolimento, perché con il rimpicciolimento qualsiasi cosa facciate si bugga. Allora, c'è il drago. Dobbiamo uccidere lui. Presto! Cacciate Dremora! Distruggiamo tutto! Sono ancora vivo? No. Chiaramente no. Allora, ragazzi. Combattiamo insieme. Dobbiamo distruggere il drago. Servono i Lord Dremora e gli Atronach che li sparano a distanza. Ok. Oddio, i Dremora, guardate lì. Sì, sì. Buono, buono. Gli Atronach, guarda che casino fanno. Oh, è tutto insanguinato. Guardate lì. Cosa sta succedendo? Ma il drago scappa da me! Non capirai. Questo è l'ultimo dei miei problemi. Vieni qui! Oddio, che danno. Oddio, che danno. No! Non andremo mai a letto. Non ce la faremo mai, ragazzi. Sì. Ok, ok, ok. Sì, sì, sì. Molto bene, molto bene. Botte, 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 ci siamo! Mena lo scemo! No, 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 no. L'ho ucciso, l'ho ucciso! Evviva. Sto assorbendo l'amina del drago nell'iperospazio. Tonk. Dovevi venire qui? Beh, uccideteli! Sono degli sporchi gatti! Uccideteli! Sono allergico! Ti arrendi? Non mi interessa! Muori! Ecco qua. Questo è il trattamento riservato ai gatti da queste parti. Cioè, stiamo per concludere la missione, ragazzi. Parliamo con lo Jarl ed è fatta. Cos'è successo, dunque, alla torre di osservazione? Il drago era lì? Quando il drago è morto ha assorbito una sorta di potere da lui. Dunque, è vero. I barbagrigia ti stavano davvero evocando. I barbagianni mi hanno evocato. La voce dei barbagrigia per... Sì, sì. Ecco! Per completare in bellezza un bel drago! Va bene, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. È giunto il momento di fare una cosa con lo Jarl. Ecco qua. Oh sì, sono infuocato, Jarl! Sono tutto infuocato! Molto bene, ragazzi. Direi che con questa scena possiamo concludere la live. Direi che possiamo chiudere qui la live. È stato un piacere. Spero vi siete divertiti. Io mi sono divertito e sono impazzito allo stesso tempo. e sono infatti. Spero vi siete missatrix. Spero vi siete missatrix. Grazie a tutti.